Rari e pochissimi stranieri, assenti principali viaggiatori delle vie del mare, calano in maniera considerevole i tagliandi dei biglietti staccati ogni giorno per le vie del mare. Il covid ha rallentato l'affluenza alla stazione marittima per le partenze dal molo Manfredi così come dal masuccio salernitano. E' il bilancio che si traccia nel periodo clou delle vacanze. Il ferragosto ai tempi del covid modifica i trasferimenti via mare verso le mete preferite, le perle della costiera amalfitana così come la cilentana senza trascurare le isole. Le attese per questo weekend sono comunque alte perché la prenotazione online e l'acquisto in biglietteria direttamente prima della partenza non consente al momento una stima delle presenze. Oggi noi in Italia abbiamo un problema che è quello che non abbiamo gli stranieri perché il turismo italiano comunque si muove, si muove in determinati periodi della settimana, il sabato e la domenica perché ovviamente i giorni della settimana lavorano, qualcuno che sta di smart working o ha fatto ferie prima, non ha ferie per poter andare in vacanza. Allora noi vediamo che abbiamo dei picchi nel fine settimana ma durante la settimana non abbiamo i numeri che avevamo l'anno scorso avendo le frontiere aperte diciamo senza l'obbligo della quarantena o la verifica del tampone qui nel nostro paese. Abbiamo prevalentemente un turismo locale quindi? Sì, un turismo locale che ovviamente sta facendo risaltare diciamo la parte del Cilento che è stata sempre caratterizzata da un turismo fatto da italiani per questo da quella parte noi stiamo facendo dei numeri, stiamo tenendo fortemente i numeri dell'anno scorso e su determinati casi e determinati giorni abbiamo anche qualche numero in più per il collegamento della costiera amalfitana dell'isola di Capri a Napoli. Mentre dal molo Manfredi e dalla costiera amalfitana non avendo il turismo e la partecipazione degli stranieri abbiamo un calo del 45-50% e sappiamo che il recupero e le cose perse non si recuperano più. Purtroppo quest'anno sono venuti meno gli stranieri come diceva prima il collega, sia gli stranieri ma anche i gruppi organizzati che giustamente le persone hanno ancora dei dubbi, molte telefonate ci chiedono se precauzioni, se c'è una restrizione, le nostre normative comunque c'è il pieno carico dei mezzi quindi non c'è più la riduzione però c'è sempre l'obbligo della mascherina nonostante vengano rispettate tutte le norme preventive, misurazione della temperatura e quant'altro però i numeri sono nettamente in calo rispetto agli anni precedenti. Amalfi e Positano in questi giorni stanno facendo registrare grandi numeri anche affollamenti lei ritiene che si muovano più in auto che con le vie del mare? No, le vie del mare sono sempre preferite ma mentre Amalfi e Positano e anche un turismo i numeri sono sempre alti ma se andiamo a confrontarli con quelli degli anni precedenti comunque ci saranno dei cali notevoli. I numeri si verificano anche per un fattore economico perché comunque acquistare un biglietto per Capri o per Isca che sono le mete prescerte da questa zona comunque è più costoso rispetto ad un viaggiare, scegliere una meta più vicina che può essere un Amalfi o un Positano. C'è affluenza in questo periodo perché fino a luglio comunque era molto 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 inferiore però comunque i numeri registrano certo una flessione notevole. Qualcuno prenoto online, altri vengono direttamente in biglietteria poco prima della partenza del traghetto. Che cosa vi aspettate per questo weekend di Ferragosto? Ci aspettiamo un afflusso maggiore rispetto ai giorni scorsi. Ci aspettiamo di raggiungere almeno la metà rispetto a quello che facevamo gli anni precedenti che erano numeri veramente importanti. Senz'altro adesso la gente preferisce l'online anche per evitare assembramenti e per essere sicuro perché c'è sempre la preoccupazione di non trovare posto poi la mattina della partenza. Noi ci auguriamo che almeno di recuperare in parte anche se la ripresa, quello che abbiamo perso fino adesso naturalmente non è possibile recuperarlo.